Salve a tutti amici di Campania nel pallone, siamo alla vigilia di Napoli-Granada, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League che si disputerà domani allo stadio Diego Armando Maradona, il fischio d'inizio alle ore 18.55. Si parte dal 2-0 con cui la formazione spagnola si è imposta nella gara d'andata giocatasi al nuovo stadio dello Scármenes e gli azzurri dunque dopo la brutta sconfitta rimediata in Spagna che è stata frutto più dei propri demeriti piuttosto che dei meriti dell'avversario, sono chiamati ad una vera e propria impresa per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale ma come affermato da Gennaro Gattuso in conferenza stampa la squadra deve provarci fino alla fine, deve crederci e dare il massimo in campo anche perché gettare al vento una competizione comunque prestigiosa come l'Europa League contro una squadra sicuramente inferiore al Napoli come il Granada sarebbe un vero peccato anche perché non va dimenticato che l'andare avanti in questa competizione consisterebbe anche nel tenere aperta una seconda strada per il raggiungimento della prossima Champions League è vero sì che pensando alla situazione attuale del Napoli la vittoria dell'Europa League può sembrare una chimera ma in caso di qualificazione domani auspicandosi il graduale rientro di tutti gli indisponibili nelle prossime settimane e magari un po' di fortuna nei sorteggi nessun scenario è da escludere e riguardo agli indisponibili stando a quanto dichiarato da mister Gattuso in conferenza stampa anche la partita di domani purtroppo verrà affrontata con gli uomini contati soprattutto in attacco perché alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto anche Victor Rosiman dopo il trauma cranico subito nel finale di Atalanta-Napoli Una buona notizia è il rientro di Dries Mertens, l'attaccante belga da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e Gattuso ha affermato che ha nelle gambe un 15-20 minuti Dunque domani partirà dalla panchina con la speranza di poter disputare uno spezzone di gara e perché no poi di puntare alla titolarità per il derby campano contro il Benevento di domenica Mertens e Demme di sai in questi ultimi due giorni hanno svolto in parte lavoro personalizzato e in parte lavoro per la squadra e potrebbero tornare a disposizione per la gara contro il Benevento E comunque in ogni caso si conta di poter recuperare tutti gli altri indisponibili nel giro di un 2-3 settimane e l'auspicio è che proprio il rientro in campo di uomini chiave possa dare una scossa al gruppo Riguardo all'undici iniziale dunque ancora tante scelte obbligate In porta ha confermato Meret, Ospina fermo ai box anche lui come ben sappiamo Linea difensiva composta sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui mentre al centro ritroverà la maglia da titolare Calidu Coulibaly Dopo il periodo di stop a causa della positività al Covid al suo fianco ci sarà Amir Rachmani A centrocampo probabile conferma Di Bakayoko in cabina di regia con Mezzali, Fabian Ruiz e Zielinski E in avanti sarà adattato Politano al centro da Falso Nueve con ai suoi lati Elmas a destra ed Insigne a sinistra E dunque detto questo è tutto auguro a tutti un buon proseguimento di serata dandovi appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel Pallone